Flavia Capone e poi Lino Patrono. Flavia. Io so che sicuramente deve essere stato difficile a scrivere questo libro, ma sono anche convinta che Dacia Maraini, come anche confermato, abbia scelto il momento migliore per raccontare a pieno questa storia. È un momento in cui la testimonianza è importante, è un momento in cui a volte facciamo quasi finta che non esistano i testimoni di adesso, perché i testimoni di quello che succede ora esistono e spesso vengono ignorati, non ascoltati o addirittura in alcuni casi ricacciati al proprio paese o arrestati. Quindi insomma direi che l'importanza della testimonianza deve essere sottolineata, lo sottolinea lei con questo libro, lei che ha una posizione tra virgolette privilegiata perché è una voce che tutti vogliono e amano ascoltare, spinge ad ascoltare anche la voce degli inascoltati e credo che questo sia fondamentale. Signora Maraini, brevemente a lei la parola. Io penso che sia stata una buona cosa, anche perché i sopravvissuti stanno morendo, stanno finendo, sono ormai anziani, però perché la memoria, ecco, diciamo la verità, questa è un'epoca di consumismo che scoraggia la memoria. Secondo me la memoria fa paura, infatti per me il lavoro sulla memoria è una forma di resistenza a una cultura che tende a spazzar via tutto, a concentrarsi sul presente e a perdere la memoria. Io vado spesso nelle scuole perché mi invitano e è una cosa che mi è molto stupito di sentire dire che i liceali, ma anche le medie, non arrivano mai a studiare l'ultima guerra, che è una cosa, secondo me, terribile, perché la memoria, se non si capisce, se non si sa che cosa è successo e come è nata l'ultima guerra, non si può affrontare il futuro. Bisogna partire dalla conoscenza di quello che ci ha preceduto, che ci ha formato, le nostre radici, anche se siamo nati dopo. Ma non perché ci sia una proibizione, ma perché non si arriva in tempo, che è una cosa pazzesca. Dice, non arriviamo in tempo a parlare dell'ultima guerra. Ma allora cominciamo dall'ultima guerra e torniamo indietro ai Romani, insomma, questa è la mia proposta.